le riprese video avrebbero mostrato una situazione inaspettata portando all'arresto dell'ex reginetta disney come cambiano le cose col passare degli anni per i nostri beniamini televisivi stiamo parlando di sky jackson ex star della disney conosciuta a livello mondiale soprattutto per il ruolo di zuri ross nella serie tv jesse non è più quella dolce apparizione sullo schermo almeno non del tutto l'attrice infatti è stata arrestata con l'accusa di violenza domestica secondo quanto riportato da tmz sky jackson avrebbe aggredito e picchiato il suo compagno nonostante i tentativi dell'emittente di ottenere una dichiarazione dagli avvocati che stanno difendendo jackson non è stata fornita alcuna risposta fonti delle forze dell'ordine hanno rivelato all'emittente che l'arresto è avvenuto dopo una chiamata di emergenza gli agenti sarebbero intervenuti direttamente nella sua abitazione durante una lite molto accesa con il ragazzo proprio il compagno di jackson è stato trattenuto in un primo momento ma le circostanze sarebbero state ben diverse stando alle informazioni riportate sia sky jackson che il suo compagno avrebbero negato qualsiasi violenza fisica avvenuta tra di loro l'attrice avrebbe inoltre dichiarato agli agenti che la loro relazione è solida e che starebbero aspettando un bambino tuttavia le riprese video avrebbero mostrato una situazione ben diversa portando all'arresto dell'attrice il compagno la cui identità rimane anonima è stato rilasciato mentre jackson è stata liberata su cauzione poche ore dopo nata l'8 aprile 2002 sky jackson ha guadagnato notorietà interpretando il ruolo di zuri ross nella serie disney jesse iniziata nel 2011 aveva debuttato all'età di soli cinque anni nel film liberty kid del 2007 nel ruolo di destini la sua carriera di giovane talento è proseguita con film come ferebound ricomincio dall'amore e il doppiaggio di un personaggio nel film i puffi jackson ha anche avuto una carriera prolifica come doppiatrice in progetti come ultimate spider-man e dragons squadra di salvataggio ed è protagonista del videoclip del brano panini di lil nas x seguitissimo artista statunitense